Avviata a vittoria la fase di allestimento per gli oltre 300 espositori della campione aremaia che aprirà i battenti sabato prossimo per l'edizione numero 51 e già cominciano a scaldarsi i motori anche con eventi collaterali di un certo rilievo per cui si sta lavorando, rimarcano dalla vittoria mercati ente gestore per un momento esaltante utile a garantire tradizione e proiezione al futuro. Una kermesse che porta con sé un altro sentimento legato quindi alla tradizione e alla passione con la quale la stessa viene vissuta da espositori e visitatori. Altrettanto entusiasta è il sindaco Moscato che parla di un'edizione di forti responsabilità e sulla quale si stanno concentrando gli sforzi a supporto dei tantissimi espositori che anche quest'anno hanno dimostrato fiducia e voglia di credere in questo progetto di rilancio. Un anno del consolidamento per primo cittadino il 2017, di una fiera cioè che garantirà utile e non perdite, capace soprattutto di garantire un programma all'altezza delle aspettative e il nostro impegno, ha ripetito Moscato, in questo versante sarà totale. Grazie a tutti.